Ci siamo visti fuori e mi ha detto ti porto al mare. In realtà io il mare non l'ho visto, non scherzo. Sì, è colpa mia. Abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato di noi, ci siamo un po' raccontati, abbiamo parlato anche degli ex. Io ho detto io non parlo degli ex, se tu cominci il discorso io ci metto il mio. E quindi lui mi ha raccontato un po' di lui, io ho raccontato un po' di me, io mi ho detto che comunque io ho un figlio di dieci anni e chi si avvicina a me comunque deve amare per me prima il mio figlio e dopo me. Quindi io ho detto se è una fatica questa, se aveva dei limiti in questo. No, i bambini mi piacciono quindi non c'è problema. E poi dopo l'aperitivo l'ho invitato in camera mia a bere il caffè perché non l'avevo ho preso questo caffè finalmente. E ci siamo fatti ancora due chiacchiere nel letto così. Basta, basta. Non è successo. Basta? Basta. Sì, sì, sì. Un abbraccio c'è stato? No, un bel saluto alla fine ma niente di che. Contate di riuscire o no? Io sì, spero anche lei. Anch'io sì. Grazie. 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 Grazie a tutti.